I carabinieri di Acireale nel Catanese hanno arrestato un 60enne ex convivente della madre per l'omicidio e l'occultamento del cadavere di Agatha Scuto, 22enne scomparsa di casa il 4 giugno del 2012 il cui corpo non è mai stato ritrovato. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito il rapporto particolare che l'uomo aveva instaurato con la ragazza e il suo tentativo di inquinare le prove, ottenendo da conoscenti la conferma del suo falso alibi. Intercettato in auto avrebbe espresso il timore che il corpo della ragazza che era stata strangolata e bruciata potesse essere ritrovato.